Perchè qua fuori c'è scritto Martucci Francesco, la gente si aspetta che ci sia sempre io. La regola numero uno dei mazzanieri di Martucci è il fatto che Martucci c'è sempre, dalla prima all'ultima pizza. Napoli è il centro nevalgico della pizza mondiale, non voglio assolutamente mancare di rispetto, però la mia pizza è una pizza di identità, io sono di caserta, la mia pizza è casertana, noi in carta abbiamo circa 13 ai 15 oli extravergine di oliva, 13 tipi di pomodori, però pure per far divertire agli amanti ed educare sulla nostra splendida terra. La leggezza è sinonimo di pizza di qualità, prima non era tutta questa priorità, la pizza nasce da un fattore di piatto popolare, quindi ci si doveva saziare, se io quando torno a casa non si sente pesante, dorme tranquillo. Mini crunch significa le notti insonni che ho passato per arrivare a questo risultato, è bello sentirlo e poi all'improvviso scompare in bocca il morso, è un'altalena di emozioni, vedere l'espressione di un cliente quando dà il morso e notano questo mini crunch che ha la mia pizza.